Lega Pro che dispensa ancora sorpresa ad una manciata di partite dalla fine della stagione regolare. A Chieti soprattutto le acque si agitano nuovamente dopo il pareggio a reti bianche contro il Poggi Bonzi e la conseguente contestazione della tifoseria neroverde. Il ritorno di Pino Di Meo sulla panchina è realtà. Il tecnico di Trano infatti torna in neroverde con l'esonero oggi pomeriggio di Tiziano De Patre che a gennaio aveva preso il posto proprio di Di Meo. La situazione di classifica è diventata complicata e il presidente Bellia ha inteso dare la classica svolta per continuare ad inseguire la salvezza e la conseguente certezza di disputare la Serie C unica. Ieri dopo una 0-0 deludente la tifoseria aveva chiesto alla squadra addirittura di svestirsi della casacca neroverde. Sempre in seconda netto successo del Teramo sulla Vigor Lamezia con un 3-0 inequivocabile frutto dei gol di Casolla, Masullo e Dimash. Per i diavoli nulla da chiedere più al campionato con la certezza di partecipare al prossimo torneo tra i professionisti con largo anticipo. Scivolone interno al Fattori in prima divisione per l'Aquila superata dal Pontedera per 2-0. I gol entrambi nella ripresa che portano la firma di Capolli e Regoli. I rosso-blu confermano di non essere irresistibili in casa, quinta sconfitta e adesso puntano tutto sul confronto di Gubbio con la tifoseria mobilitata per un segnale di straordinaria vitalità proprio nell'anniversario del terribile terremoto del 2009.